Sotto assedio dei ladri, perché qui non c'è altro che fare questi rubamenti e non siamo tranquilli né di giorno né di notte. I residenti della quartiere di Via Chiarini, Via Monti e Via Papini si sentono sotto assedio dei ladri ed adesso tornano così a chiedere una maggior sicurezza. Qui i furti si ripetono infatti ormai da due anni, tre quelli messi a segno solamente negli ultimi mesi. Non è più la vita di prima, certamente. Ora hai paura, c'è poco da fare. Lo scorso fine settimana all'ultimo, in Via Monti, i ladri sono infatti entrati in un appartamento nella notte senza scassinare nulla. Hanno approfittato delle finestre del primo piano lasciate aperte per far circolare l'aria, il tutto mentre i proprietari dormivano al piano superiore e quindi non si sono accorti dell'intrusione. Infine la fuga dei banditi con un bottino da circa 10.000 euro. Penso che sia un problema di sempre, di tutte le stasi, di tutti i periodi. Certo è che i controlli mancano, vabbè mancano un po' ovunque. Un mese fa, il 12 maggio, un furto del tutto simile nella vicina Via Chiarini. Si vorrebbe almeno un pochino di protezione perché noi che si deve fare qui? Siamo un popolo di anziani, sicché se nessuno ci tutela è un bel sistema che non va bene questo. Nonostante le continue richieste, ancora non è stato organizzato un servizio di sicurezza e non sono state installate le telecamere di videosorveglianza che potrebbero assicurare al quartiere una maggior tranquillità. Il comune dovrebbe un pochitino curare questo aspetto.